La provincia di Teramo ha una marcia in più per fronteggiare l'emergenza coronavirus grazie alla presenza sul territorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, un centro di referenza nazionale all'avanguardia nello studio di malattie contagiose. All'Izs di Teramo è già pronto, in caso di necessità, un laboratorio di contenimento per il trattamento dei virus, mentre la struttura è abilitata ad eseguire eventuali tamponi per il Covid-19. Intanto una cosa deve essere chiara, gli animali domestici non rischiano e non provocano il contagio. Questo coronavirus è un virus che è originato negli animali, sicuramente ha come serbatoio il pipistrello ed è saltato nell'uomo, proprio si dice perché questo virus effettua il salto di specie, è un virus che è famoso per effettuare un salto di specie dagli animali all'uomo, ma ci tengo a sottolineare che i nostri animali domestici non sono assolutamente in questo momento coinvolti nell'infezione. I coronavirus è vero che esistono negli animali, i nostri cani e i nostri gatti ospitano coronavirus che possono essere più o meno patogeni, ma non sono assolutamente correlati con questo coronavirus respiratorio patogeno per l'uomo. In questa emergenza l'Izs di Teramo che ruolo potrebbe svolgere? L'Izs di Teramo in qualità di centro di differenza delle malattie esotiche e come centro di differenza della genomica, per farla breve, può rivestire un ruolo assolutamente importante all'interno del network degli izoprofilattici. Noi siamo qui davanti alla struttura di biocontenimento, siamo sicuramente in grado, nel caso in cui dovessimo essere coinvolti in questa operazione, a effettuare il test molecolare di screening per la presenza del DNA, anche se non è correttissimo, dovremmo dire RNA del virus. I campioni verranno processati qui, nel caso, verranno inattivati, dopodiché l'estratto verrà testato con un test molecolare specifico per questo virus che noi abbiamo già a disposizione. Ovviamente poi quelli che noi indichiamo come positivi verranno poi inviati per conferma al Laboratorio Nazionale, che in questo caso è lo Spallanzani o l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi siete pronti a tutto? Assolutamente sì, siamo assolutamente pronti. Ci tengo a sottolineare che rappresenta un ulteriore volano per quella che è l'importanza della salute unica, del One Health System, di cui l'Istituto di Teramo è assolutamente protagonista, perché è evidente che l'origine di questo virus è nel mondo animale, ma che ha ripercussioni importantissime nella salute pubblica e nel sistema sanitario nazionale.